Volevo dire da rumare, dai, fai da te. Festa. Gianluca Cirignoni, c'è un caso con dotte idriche nel territorio della Valtiberina? Si parla sempre della diga di Montedoglio per le nomine EWAT o magari per i fatti del 29 dicembre, ma un problema di manutenzione c'è? Ma non solo un problema di manutenzione, ma c'è anche un problema di realizzazione, nel senso che purtroppo sia la diga di Montedoglio che le condotte di adduzione dell'acqua ad uso irriguo che sono nel comune di Citerna, ad esempio di San Giustino, credo, e sicuramente anche di Città di Castello, dimostrano con le rotture che hanno frequentemente di essere state realizzate con le stesse scarse materiali, con la stessa scarsa attenzione di come è stata realizzata la diga di Montedoglio. Infatti, insomma, anche quella è crollata al primo collaudo, queste invece condotte che sono 33 chilometri e sono al servizio ad uso irriguo, quindi del nostro tabacco, dei campi, dei nostri agricoltori, dovete sapere che a seguito di una risposta, di una mia interrogazione specifica, si sono guastate negli ultimi, dal 2004, sono state collaudate nel 2003, dal 2004 in poi si sono guastate già 64 volte, quindi sono esplose sottoterra di fatto, e diciamo ci sono costate 5 milioni di euro, si sono rotte mediamente 7 volte, nell'ultimo, nel 2012, nel momento in cui io sono stato informato di questi fatti, ho fatto un'interrogazione, nel periodo maggio-giugno si sono rotte già 9 volte, quindi con grave dispendio anche da parte di danni alle culture, danni ai fabbricati, non so se qualcuno ricorda nel 2010, se non sbaglio 2011, addirittura perché si crea anche un getto d'acqua molto forte che viene fuori, venne gettato un manufatto in cemento sopra il tetto di una casa, quindi ci sono anche pericoli per i cittadini, ma oltre alle rotture e, a seguito della nostra interrogazione, devo dire che questa è una soddisfazione, che il 4 di luglio finalmente la comunità montana che ha in gestione queste opere si è decisa a prendere a campione parti di queste condutture in vetroresina che si sono rotte e diciamo a farle analizzare dall'Università degli Studi di Perugia perché, come è scritto nella risposta all'interrogazione, sono rotture anomale, quindi io dico questo, ma possibile, cioè il nostro debito pubblico in Italia è stato fatto anche spendendo i soldi per fare queste opere, che potrebbero essere opere sicuramente utili, come la diga di Montedoglio, come tutto quello che riguarda l'adduzione delle acque, e invece, perché probabilmente per la scarsa attenzione, perché qualcuno ci ha mangiato sopra, si stanno rivelando delle opere che fanno spendere ulteriori soldi, ma non per farle funzionare, questo è una cosa assurda, cioè un'opera che è stata inaugurata nel 2003. Due commissioni di collaudo nominate dalla Giunta regionale, di una faceva parte anche il direttore del passato, del precedente Ente in Rivo, Ombro Toscano, e sono state collaudate nel 2003. Da quel momento si sono rotte 64 volte, cioè com'è possibile? Io infatti ho chiesto alla Giunta, con l'interrogazione anche di, chiederò anche con una nuova interrogazione alla Giunta, di fare luce su come sono stati fatti i collaudi, perché è impossibile che lo collaudo nel 2003, dopodiché sette rotture all'anno 64 volte. In più, valuto anche se fare un esposto in procura, perché credo che su queste questioni non si debba trancisire, sono soldi pubblici e devono essere spesi bene e se qualcuno ha sbagliato deve pagare.